ragazzi ragazzi buona giornata buona giornata e apriamo subito un dono da mark trattino basso su a capitano 0 7 ragazzi capitano 0 7 mi raccomando passate da lui e la mia pagina canale in primo piano mi moderatore del mio gruppo whatsapp gli voglio gli voglio un gran bene lui ha 91 iscritti ultimamente ha fatto un to una live in collaborazione un torneo in collaborazione con un altro grandissimo s videogame 12.200 iscritti quindi grazie mille vi andiamo subito ad aprirlo marco capitano 0 7 mi raccomando passate da lui capitano 0 7 su youtube andiamo subito aprire il regalo ragazzi tanta roba ma grazie mille marco dove capitano 0 7 grazie e lo equipaggiamo subito mi sembra mi sembra mi sembra il minimo ragazzi ragazzi grazie mille grazie mille ti voglio ti voglio bene ma marco grazie 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 ancora lui anche un top donato assieme a baldo caliazzoro quindi lingue li ringrazio entrambi in questo caso ringrazio che mi ha regalato un bellissimo banda luce grazie mille ragazzi mi raccomando passate da lui capitano 0 7 marco 91 iscritti lui fa live su youtube e gioca forment grazie ancora ti voglio bene